Benvenuti a Incomune, il notiziario con gli eventi che riguardano l'attivo e fertile mondo dell'associazionismo nel territorio di Montevarchi, trasmissione in collaborazione tra Valdarno Channel e il Comune. Questa volta conosciamo una realtà, quella dell'associazione Valdarno Olistico, che veramente sta riscuotendo un notevole successo in tempi di stress. Noi siamo lieti di avere qui il presidente Giuseppe Crispo. Poi per parlare di olismo, anche per farci capire quali sono poi gli ambiti operativi, abbiamo una naturopata e ci spiegherà anche quali sono le sue caratteristiche, le caratteristiche del lavoro prezioso che svolge, ovvero Elisa Peretoli. Ecco, perché l'abbiamo voluto chiamare il Festival del Benessere? Perché l'intento che ci ha guidato un anno fa nel creare un movimento, che è poi diventato anche associazione, era di diffondere a livello capillare, anche a livello di massa, quindi non solamente di elite, di tutte quelle discipline olistiche che sono studiate apposta per creare benessere psicofisico. Diciamo che come presidente e come responsabile dell'evento non posso che essere soddisfatto di come sono andate le cose, perché posso dire missione compiuta, nel senso che c'è stato un grande afflusso di persone, anche non addette ai lavori, quindi famiglie con bambini e quindi possiamo, ripeto, essere molto soddisfatti del numero di prenotazioni che ci sono state, anche i gruppi dimostrativi sono stati affollati, anche la cucina naturale, la nostra cucina naturale è stata gustata fino in fondo e io direi che un ringraziamento particolare lo vorrei dare a tutti gli operatori del nostro gruppo e ovviamente alle persone che sono venute numerose, quindi il Val d'Arno c'è, è sensibile che se ne dica e soprattutto volevo dare un ringraziamento particolare al comune di Montevarchi che ci ha patrocinato insieme a Figline Incisa e anche a Terra Nuova questo evento e ha messo a disposizione la struttura molto bella che è quella della Ginestra, la fabbrica della conoscenza, quindi per quel che mi riguarda tutto a posto. Tra l'altro questo è solo l'inizio di tutto un progetto che abbiamo intenzione di mandare avanti, sempre utilizzando la sinergia con gli enti locali e con le altre associazioni con cui abbiamo preso vari contatti. Ora per quanto riguarda poi la parte più specifica dell'Olism, io darei la parola alla mia collega Elisa. L'Olismo è considerare la persona nella sua totalità per far sì che ci possa essere il benessere, ma non solo nel senso fisico, ma anche nel senso mentale e nel senso spirituale. Infatti in particolare io come naturopata, anche la naturopatia si occupa del benessere psico-fisico dell'individuo, considerando l'individuo che ha bisogno non solo di una corretta dieta, di un sano movimento, tutto ciò che riguarda il benessere della persona. In particolare la naturopatia nasce da diverse discipline che vengono dall'Oriente e la naturopatia ne racchiude tante e diverse. Per esempio io più che altro faccio la kinesiologia, la kinesiologia che si basa sul controllo muscolare, oppure la riflessostimolazione, la riflessologia plantare, tutto questo, diciamo, pure la meditazione come fa Giuseppe, tutto questo può essere chiamato Olismo. Tra le altre cose è un periodo, sono direi da diversi anni ormai che i ritmi di vita stressanti, si usa stress per indicare tante cose, sono naturalmente più facilmente controllabili anche attraverso pratiche di questo genere. Sì, sicuramente su tante persone che magari io incontro, su dieci persone, nove, non hanno dei problemi particolari ma soffrono di stress e questo a causa del ritmo frenetico che purtroppo la nostra vita occidentale ci offre, insomma. Potete mettervi in contatto attraverso il nostro sito che è www.valdarnolistico.it, poi c'è una pagina su Facebook che è dedicata proprio a Valdarnolistico, poi ci sono i vari indirizzi ma questi sono quelli miei personali. Basta il sito, Presidente. Basta il sito, ok. Grazie allora, buon lavoro a Elisa, al Presidente e a tutta l'Associazione Valdarnolistico. Grazie anche a Barbara Mugnai per le riprese, si chiude qui la nostra puntata di In Comune, appuntamento alla prossima settimana.